L'Istituto Agrario, oggi Fondazione Mach, vanta una lunga tradizione sulla pedologia e anche un futuro importante. Grazie al lavoro di uno dei nostri ricercatori e del suo gruppo, Paolo Fontana, questo documento è un consensus paper scientifico, pone un problema e anche delle soluzioni per la tutela della sottospecie apis mellifera che rischia, con la perdita del patrimonio genetico, di impoverire non soltanto il settore del miele, che è pure importante, ma tutta l'agricoltura. È un documento firmato in primis dagli scienziati che poi potrà essere sottoscritto dalla società civile, dalla politica, dalle istituzioni, nella speranza che le istituzioni stesse, la politica, sia in grado di normare questo settore, considerandolo non come una mutuazione delle norme zootecniche, perché questo animale non è domestico, ne dobbiamo tenere conto. E quindi io mi auguro davvero che da oggi parta un percorso che porti a questa tutela, che rappresenta poi il nostro futuro, perché la biodiversità è una ricchezza, dobbiamo tutelarla.